Buonasera, buonasera a tutti i nostri ascoltatori e ben trovati per, no, come tutte le domeniche la trasmissione Sons of Liberty Database Italia. Io ringrazio e saluto Larissa Conti, Gianmarco Landi e Sabina Vento che ci aiuterà questa sera con la traduzione perché avremo degli ospiti che si inseriranno durante lo svolgimento del programma per analizzare nello specifico la situazione attuale che si sta vivendo nella zona dell'Ucraina, della Russia, ma non solo, anche in tutta Europa. Buonasera a tutti e ben trovati. Buonasera, buonasera a tutti. Bene, soliti problemi di connessione ovviamente in questo periodo, soprattutto quando facciamo queste dirette così delicate. Io non perdo tempo, quindi vi volevo presentare Larissa che è la rappresentante della Repubblica del Donetsk in Svizzera, una persona molto informata, un'imprenditrice che ci aiuterà a capire com'è la situazione, ma non solo adesso, dagli ultimi otto anni in questa, diciamo così, Repubblica tartassata da un regime sempre più opprimente, ovvero l'Ucraina. Larissa, ben trovata e grazie per la partecipazione. Luca, però prima di passare la parola alla Larissa spieghiamo che il Donetsk è una delle due repubbliche, dei due oblast del Donbass, perché non tutti sanno cos'è questo, ed è un pezzo di Ucraina russofono, uno di quel pezzo di Ucraina su cui, diciamo, verte la controversa da tanti anni, la controversa internazionale. E quelle che Mentana ha chiamato ancora dopo otto anni di guerra, le ha chiamate le zone temporaneamente occupate dai ribelli filorussi. Siamo a questo punto, signore. Mentana, cosa possiamo ancora dire di questo?